dunque tu qui hai coinvolto 60 giovani giusto sì 60 sono 60 dentro il manifesto di migliaia che hanno partecipato ecco tra i 60 che tu hai scelto c'è anche luca folli ciao 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 lo sapevi che rovospite stasera un super talento lui sì lui è lui è lui è un grande è un grande talento fra l'altro fra l'altro dopo se rimani con se riesci a rimanere collegato vedi anche il suo video limite lo vediamo insieme gli fai un po da una cosa allora luca folli fra l'altro è un ragazzo pensa che ha postato un video nel nel mio canale telegram no e mi ha colpito perché era un video in piano sequenza non c'era un taglio ed è la dimostrazione che non è che hai bisogno di avere tanti soldi per avere una bella idea e fare qualcosa di bello era lì c'è tutta una ripresa unica e c'era lui che cantava questa canzone e la coincidenza questa volta non è una coincidenza questa volta roberta ha detto guarda luca folli nuovo disco sì io gli avevo già detto che che l'avrei ospitato perché mi piaceva moltissimo il nuovo video guarda visto che lui è tra i 60 di caccamo li mettiamo vicini quindi quindi vi ho messo ecco luca qual è la cosa che tu hai scritto per il manifesto del cambiamento di giovanni caccamo ma intanto guarda ci tengo a precisare che io ho conosciuto giovanni tramite tered è la prima volta che che venni a bologna ne parlammo ti scrissi poi sempre rifiuto a battiato c'è questo grande amore mio di battiato e chiaramente giovanni ha vissuto e vive in primissima persona e quando io scrissi un messaggio a giovanni lui è stato gentilissimo intanto da rispondermi con un messaggio lungo vocale su instagram dico che chi chi lo fa quale cantautore ad un livello diciamo così più alto mostra questa disponibilità ed è nato questo rapporto molto bello con giovanni infatti ci tengo a iniziare con questa piccola premessa e ringrazio terre e ringrazio giovanni perché sono nate anche collaborazioni interessanti al di là del del manifesto di parole giovani comunque il mio intervento a di la verità è molto semplice è molto basilari che però nella sua semplicità in qualche modo ha colpito giovanni e di questo ne sono veramente onorato la parola che che ho utilizzato per essere dentro questo manifesto e gentilezza gentilezza tutta rivolta verso l'empatia mi sentite sì sì forte e chiaro un discorso rivolto all'empatia perché io in primis purtroppo tendo molto a auto criticarmi e l'esperienza parte da me proprio quindi è noto che quando io stesso vivo la vita in maniera più empatica verso gli altri la vita mi sorride quindi il discorso questo dovremmo impegnarci ad essere più empatici a pensare che ogni persona ha una sua strada una sua battaglia che sta attraversando e tutti quanti abbiamo dei degli scogli che dobbiamo superare dovremmo essere veramente tutti quanti più uniti purtroppo purtroppo la società la frenesia soprattutto in questi anni così digitali così basati sull'apparenza tanto noi ci lavoriamo anche con con questo tipo di di estetica ci porta a vivere in maniera frenetica pensare sempre a noi stessi noi stessi noi stessi dovremmo invece ogni tanto respirare e pensare al bene comune essere più più empatici quindi questo il mio piccolo intervento che giovanni ha inserito posso citare anche un'altra persona che tu red hai conosciuto conosci matteo trapanese un amico un cantautore con il quale abbiamo attraversato momenti interessanti sempre grazie a giovanni è intervenuto anche lui quindi mi fa molto piacere citarlo perché poi in questi ultimi mesi siamo diventati molto amici e ci sentiamo è verrà matteo aprirà il concerto di anastasio perché da un paio di mesi mi hanno affidato la direzione artistica della fondazione arnaldo pomodoro di tutta la parte culturale di eventi e allora matteo aprirà il 9 di giugno il concerto di anastasio alla fondazione pomodoro luca è stato parte della di una master class con la fondazione bocelli diciamo che come come fai tu caro red diciamo io cerco di creare una rete di luce anche per così mettere a disposizione per quanto possibile un po del mio cammino con con dei giovani di talento ma ma guarda io ti dico ti dico subito che se tu hai dei giovani da segnalarmi un po quello che accade poi con ad esempio matteo trapanese mi è stato segnalato da morgan che un giorno dice io io vengo ma devi chiamare matteo chi chi no è uno che no 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 io ho chiamato sto ragazzo che si è trovato lì buttato lì e non sapevo niente così faccio con grazie di michele grazie mi suggerisce soprattutto cantautrici ma anche cantautori e e quindi se c'è ormai dobbiamo creare una rete perché siamo siamo piccoli ma potenti perché dalla parte nostra c'è l'amore per l'arte per la musica e per la verità e questa è una roba che ti fa sempre vincere quindi se poi mi vuoi segnalare anche qualcuno al limite assolutamente no sai che cosa facciamo guarda ti dico già cosa succede tanto tu c'hai progetto lunga scadenza ci hai messo un anno e mezzo a fare sto cavolo di libro quindi immaginati te quando ricomincerà il premiato circolante del barone rosso ok facciamo un uno speciale di tre ore che si chiamerà parole dove tu vieni e inviti dei cantautori o delle persone tipo luca fol tipo matteo trapanese e facciamo un facciamo un agorà facciamo un concept tu hai fatto un concept album facciamo un concept program ok allora senti luca io citerei a far vedere il tuo video perché citerei a far vedere il tuo video perché vorrei che lo vedesse anche giovanni ok che è a proposito di gentilezza questo brano si chiama vivere con garbo ok allora tu giovanni hai vissuto con franco battiato è stato lui che per primo ti ha dato fiducia con la famosa cassetta che gli hai portato la sulla cosa sei andato a salutarlo l'ultimo saluto ti ha mandato dei messaggi nella notte con le luci o la pioggia che si accendevano si spegnevano eccetera e luca invece è fortemente ispirato da franco vedrai anche ci sono molte cose in questo in questo brano compresa un po quel tipo di danza che fai dietro dietro al velo in trasparenza che è stile un po franco battiato però vorrei che tu lo vedessi giovanni perché inizia conosco il caruso come si suol dire cosa vuol dire conosci i miei segreti in sicilia si dice ucaruso ucanuscio no ah ho capito ho capito ma guardo volentieri ma questo visto questo video non l'hai ancora visto però no penso di no l'ho già visto no no non l'hai visto giovanni non l'hai visto allora allora ci sentiamo dopo in anteprima assoluta su redroni tv luca fonda quelli della mia generazione sono nati con la fame la furbizia di mentire sempre i genitori non per odio ma per goliardia la complicità era altro quelli della mia generazione a 15 anni si pensava che la musica più vera fosse fatta solo con chitarra basso e batteria l'elettronica è una merda musica lascia stare un po' novità è tornato rock etica la voce bassa è calma si così mi piace ho promesso di ascoltarmi un po' dimenticare i miei anni ed esser povero pensa a quelle cellule sessuali di tuo padre che correvano tra i condotti femminili tra milioni di spermini è stato concepito il tuo ora percepisco l'ansia se si parla dell'integrazione per favore si distingo all'accezione di barcone e si parla di più tre nina pinta e santa maria quelle si son clandestine ho scoperto di essere un po' mediocro e molto educato molto anonimo quello che dico è la mia supposizione quello che penso sia mio è presunzione quello che affronta è la mia ostinazione quello che odio è la tua competizione vivi con garbo per favore fallo per il buon umore sempre e sempre vivi con garbo per favore fallo per il buon umore sempre e per sempre quello che dico è la mia supposizione quello che penso sia mio è presunzione quello che affronto è la mia ostinazione quello che voglio è la tua quello che dico è la mia supposizione quello che penso sia mio è presunzione quello che affronta è la mia ostinazione quello che odio è la tua eccomi eccolo fantastico bellissimo anche il brano proprio grazie grazie giù grazie troveremo un paio di date da 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 aprire anche anche insieme se ti fa piacere assolutamente neanche da chiederlo so comunque che viene a rimini ad agosto a prescindere da rimini già già ci sei a parte che il primo vicenza è lontano da dove sei tu vero un paio di ore una domanda una domanda giovanni dove sei tu 10 di giugno il il 10 giugno il pomeriggio ah vabbè no forse ancora non posso dirlo comunque il pomeriggio sarò in un posto meraviglioso bellissimo a cantare con altri artisti e la sera un concerto a vittoria il pomeriggio sono a roma e la sera sono a vittoria ah ok niente fai una cosa bella tu si noi facciamo un home collettivo peraltro a rimini luca dove dove lo fate bagno aspetta te lo dico subito lo facciamo verso miramare ti dico anche lontano io in geografia faccio schifo si vede si vede non ho capito che fai schifo in geografia non ti preoccupare non lo dovevi dire eccolo qui guarda adesso ti faccio vedere dove siamo siamo praticamente a aspetta dove al bagni ricci 142 143 lo sai dov'è si tra miramare tra rimini riccione quindi rimini sud ancora rimini sì sì certo il 10 di giugno il 10 di giugno sarò a suonare in un festival verso varese quindi sono proprio fuori quel giorno è proprio la data red hai beccato peccato vabbè ci rifaremo ci incontreremo ok io saluto giovanni caccamo ciao giovanni grazie ciao giù e tutte queste 627 persone connesse e chi ci vedrà seguitemi su instagram così creiamo una bella rete il numero i numeri che vedi non è reale più alto perché tu vedi soltanto un numero parziale perché siamo in contemporanea dovunque comunque ci segua grazie red sei sempre speciale sai cos'è la mia fortuna cioè no io ho un'abilità quello che invito gente speciale quella è l'unica mia abilità ma c'è esiste una cosa caro mio che si chiama legge d'attrazione e tu non puoi prescindere ok ciao 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 giovanni allora luca fra l'altro proprio di concerti tu stai facendo le prove perché cosa che prove stai facendo luca a questa sera è un progetto parallelo si dice così no chi hanno chi ha più situazioni più bende è un'altra band con la quale stiamo mettendo su una scaletta funky lounge tutt'anni 70 anni 60 per uno spettacolo che faremo riccione a fine giugno repertorio molto molto lungo quindi questa sera erano indispensabili queste prove per un io sono le tastiere sint faccio tutt'altro invece per chi non mi conosce come luca fall sono cantautore quindi chitarra canto e scrivo canzoni pop diciamo così invece stasera vedi questo cappello perché la sala prove si chiama il messicano ti faccio anche vedere red io la prima volta che ti ho conosciuto ero così ero con i capelli lunghi ma dove ci siamo incontrati noi ci incontrammo a sanremo nel 2018 per il fiat tour tu eri per il fiat music ma tu sei venuto dentro alla roulotte sì 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 cantava in inglese ancora erano pezzi vecchi però fece tu mi criticasti per questa cosa qua e da lì iniziai poi a scrivere in italiano e andò un pochino meglio sì 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 che anno era 2018 febbraio 2018 sì ma ti chiamavi già luca fall cantando in inglese ero luca fall scritto luca fall quindi la pronuncia era la stessa ma luca cadere luca autunno luca fall tutto attaccato sì ma e t'abbiamo anche ripreso se non sbaglio come no c'è anche su youtube il video tuttora certo c'è anche su youtube il video tu hai fatto male se non l'hai cancellato è rimasto tu hai fatto male dire queste cose perché adesso cazzo rimarrà rimarrà come una spada di damole su di te vederti con i capelli lunghi che canti in inglese parliamo di cinque di qualche anno fa sembrava più vecchio allora però quindi questa è una cosa molto positiva però bene però avevo ragione mi sa è sì diciamo che ero già in quella fase di passaggio in cui stavo finendo di scrivere alcune cose in inglese iniziava a scrivere alcune cose in italiano e questa tua frecciatina questa tua critica costruttiva chiaramente si è si è manifestata è diventata qualcosa di più ma scusa scusa luca ero da solo nell'aeronaut o c'era qualcuno con me? mi ricordo che prima di me c'era il sindaco di Sanremo però tu comunque dirigevi da solo eri da solo ah non c'era ancora grazia di Michele non c'era Fausto Mesolella? no 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 mi ricordo che c'era prima di me il sindaco di Sanremo anzi io entrai dentro poi arrivò il sindaco di Sanremo tu giustamente lo lasciasti passare dopo ho fatto la mia piccola esibizione abbiamo fatto qualche chiacchiera però era stata una bella giornata mi ricordo molto bella ma sai cosa mi piace che io ho inconsapevolmente con questo mio fatto di perché se ben ricordi non è che noi facciamo una selezione prima si prendevo un numeretto e poi dopo perché c'era un arresto incredibile e poi dopo entravi con i numeri pensa che io arrivai perché il giorno prima feci un concerto una serata a Misano Adriatico presi il treno la notte arrivai a Sanremo senza prenotarmi una cosa incredibile e Roberta mi ricordo la tua segretaria la tua assistente ero proprio al limite è stato un miracolo che mi ha fatto passare perché l'ho pregata e ho detto guarda ho fatto tutta la notte per essere qui per favore per favore fammi almeno dire ciao e invece alla fine mi fece passare e riusci a conoscerti a fare la mia canzone a fare quattro chiacchiere pensa che questo qui io ho raccolto i primi vagiti tuoi i primi vagiti di ultimo ultimo venne a Fiat Music e quindi è una cosa bella perché perché era fantastica eri piccolino allora quando hai cantato al Festival di Sanremo ma tu non hai cantato al Festival di Sanremo no no ho provato più volte pensa che il video di Vivi con Garbo il brano che appena trasmesso ho provato ad iscrivermi arrivai alla finale di Aria Sanremo quindi ho effettivamente cantato questo pezzo davanti a Amadeus poi di quei 60 se non sbaglio questa ad ottobre 2022 dei 60 hanno selezionato 5 vincitori di Aria Sanremo che poi hanno partecipato alla finale di Sanremo Giovani in diretta e quindi ci sono quasi arrivato quest'anno con questo brano infatti il video di Vivi con Garbo seppur ho la fortuna di essere seguito da un videomaker da una troupe da una produzione di ragazzi veramente molto bravi ma è stato fatto in tre ore con delle tempistiche veramente allucinanti quindi sì non ho mai cantato Sanremo però mi è capitato più volte di partecipare ai concorsi che portano dentro questa cosa qua Sanremo Giovani, Aria Sanremo e simili posso dire che se ti hanno scartato da Sanremo con questo brano è un'ulteriore conferma che come direzioni artistiche non è che siano strepitosi no mi hanno detto è troppo strano questo brano è troppo troppo strano era l'unico brano disponibile per la partecipazione ma sai perché è strano? perché fanno così per decidere se un brano è strano o no guardano Luca Foll quanti follower ha? quante visualizzazioni ha fatto? no strano questo brano poi se mi andavi magari avevi fatto che ne so 3 milioni di visualizzazioni andavi lì ruttavi e scoreggiavi fantastico andiamo sei dentro capito? quindi questa è vabbè prega niente andiamo avanti noi Luca niente io sei già venuto dove dal vivo tornerai dal vivo e mi dispiace che tu non si arrivini il 10 di giugno perché ci saresti stato bene lì però ti... lo so lo so una domanda ma tu adesso che fai sta roba qui anni 70 anni 80 cosa fai? anni 70 adesso? no questa è una cosa parallela quello che le prove di questo spettacolo è una cosa... giusto ma fate pezzi famosi? facciamo pezzi il più famoso è Sex Machine o di James Brown ma sono tutti brani no non sono famosi sono tutti brani di una scena underground anni 70 anche tedesca americana di brani sconosciuti tipo? tipo gli Hamburg Spinners facciamo questo brano che si chiama The Roptimist non so se hai... cogli qualcosina no conosciamo The Roptimist ma The Roptimist no questo si chiama The Roptimist perché cerchiamo di avere brani che creano un groove una situazione per sai aperitivi è comunque una situazione diciamo così lavorativa e allora lavoriamo più sul sound che però per questo spettacolo per esempio siccome sarei in una piazza eccetera mettiamo su un medley come Luca Folla andrà in giro in tournée? si farò delle date quest'estate si 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 che pubblicherò a breve sui social si si ok ma questo brano questo brano vivi con garbo che cos'è? un singolo? un one shot? che cos'è? è il primo singolo di anticipazione del nuovo disco che uscirà quest'autunno bene allora Luca ci vediamo in autunno e complimenti per questo brano ok buone prove Luca grazie Red grazie grazie ciao Luca Foll ciao Luca Foll grazie a tutti